... ... ... ... .... ... ... ... Malta. Ah, io, gli uffie, sta proprio un nitolo, che cazzo f... stai oh e da qui stai zaleo dava una in regge vanno via giù provino rimane gianada gianada da quiesen la gianada di migliore in n Piatto Oh ma perchè c'è la piamma? Ma stai attrezzando da me, che c'è il raggio? Però l'ho detto, pitignosi si Ma dov'ha stare con l'asciuta male? Io non ho detto Ptitiglioso, qui? Dov'è stare con la stessa mano? eh? pittimosa? non ha detto che ci rivolano ma lo fa tutti i giorni ma tutti i giorni ci sta sempre dopo per i salimi e si arriva alla notte e si arriva alla notte occhio ai ragazzi c'è la macchinetta sa fa video non me l'ho attrezzato eh dai un po' la mano da lì sotto se si casca questo si ammazza si ando giù ando giù appoggiala lì così e basta eh si malta 2012 12 e ci ci ciao 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 Grazie a tutti. Ma mi faccio buttare? Da qui mi faccio male? No, che ti fai male? Non c'è niente, scendi pianino pianino e ti butti. Poi abbiamo un patrassino, prima fai un giretto da su per esempio. Capito ste? Guarda un po' lo sasso mezzo lì. Guarda un po' lo sasso mezzo, non ci si chiara? Guarda un po' lo sasso mezzo. Qua, qua! Sono zombrendato, sono immaginato.